questo è un anteprima acustico del nuovo disco di Gino Marchitelli no prima spieghiamo allora però proviamo insieme a immaginarci questa cosa al di là dei telefonini proviamo a pensare una donna sui 50 anni che è cresciuta in questa casa di campagna non ci interessa dove è la campagna può essere in Emilia, può essere in Meridio non ha importanza cresce, parte, andrà a vivere da un'altra parte studia, si fa la sua vita eccetera eccetera a un certo punto torna, i suoi non ci sono più e torna in questa casa è una casa di campagna per cui arriva la casa è chiusa, la apre, ci sono le persiane le apre, comincia ad entrare l'aria c'è l'odore dentro c'è la polvere, magari non so potrebbero esserci delle lenzuola più mobili ma anche no c'è la polvere lei quando la apre nonostante sia chiusa tanto tempo comincia a risentire esempio io quando vado in via Savona al 102 ed entro in questo portone quando entro al piano terra si sente ancora l'odore del polpettone che faceva mia nonna e ti fa partire l'embolo del ricordo quindi questa entra e deve essere abbracciata dai ricordi e quindi fa i conti con se stessa adesso la bella voce è quella che io sono affreddato dipende dai ricordi nel niente la foto vecchie ingiallite consumate dal tempo tuo padre e i suoi tormenti tua madre lo sguardo smarrito nei suoi silenzi e tu a inseguire i tuoi sogni ricordando di lontani parenti solo gli occhi da vecchi c'è un tempo in cui la vita fugge via ti scivola tra le mani veloce e non lascia segno fantasmi che giocano sui muri ragni che invadono l'ambiente e ricordi che scivolano via poi ritrovi dentro un armadio una scatola dimenticata una scatola dimenticata lì per caso in quella stanza dove hai giocato dove il cuore tuo era caldo e protetto e afferri la vita con le dita chiedendoti l'anima dei tuoi dove sia finita poi improvvisamente un volto ritorna tua madre che tu c'è un'atena e anche quella sua carezza poi improvvisamente un volto ritorna tua madre che tu c'è un'atena con la sua dolce carezza che tu c'è un'atena cioè deve essere tentativo quello che sia una sfera non so come spiegarla 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 non so come spiegarla